Non sarà cancellata la tratta aerea Pescara-Milano, rimarranno i consueti due voli giornalieri verso Linate, fatta eccezione per il periodo in cui l'aeroporto Lombardo rimarrà chiuso, ovvero fino al 27 ottobre. Dentro Alitalia, comunque i vertici Alitalia conoscono bene i numeri, sanno che questa è una tratta che è molto frequentata e molto utilizzata e soprattutto, logicamente, i nuovi proprietari di Alitalia ci saranno anche Ferrovie dello Stato, perché la logica è quella di integrare il trasporto ferroviario con quello aereo a livello nazionale e la tratta adriatica Pescara-Milano è ancora una tratta che rispetto all'alta velocità che c'è sul lato tirrenico non è allo stesso livello. Non finiscono qui le novità sui cieli abruzzesi, infatti verrà mantenuto l'Hub con Malpensa per i voli intercontinentali. Si potrà viaggiare all'estero facendo un unico biglietto aereo direttamente da Pescara. Questa opzione è fondamentale anche per il milione di abruzzesi che vivono oltreoceano. Potranno tornare nella loro regione di origine senza dover recuperare i bagagli a Milano o a Roma per poi doversi imbarcare su un altro volo o su un pullman. Abbiamo intanto da oggi il volo di Malpensa che è un hub intercontinentale e per la prima volta si può fare un biglietto da Pescara e andare in giro per il mondo, non scaricando i bagagli, perché Malpensa, come sapete, si cambia aereo e che tutte le compagnie in cosciere in golla d'Italia vi portano in giro per il mondo. Mentre all'inizio dell'anno sono aumentati i passeggeri dall'aeroporto d'Abruzzo di quasi il 6%, si lavora anche per ristabilire la tratta a Pescara-Torino. Sono numeri molto importanti per noi perché ci permettono di guardare al futuro con grande fiducia e di guardare l'obiettivo del milione di passeggeri sempre più concretamente.